Non ho il quadro della situazione, non ho notizie di indagini, leggo solo la parte giornalistica, non sono in grado di poter dare una risposta. So che c'è un'attività di indagini, ci sono state delle attività svolte dalla Guardia di Finanza, motivo per il quale io non posso dare una risposta.